Siamo in diretta da Surbu, il primo confronto tra i quattro candidati sindaci, uno scontro veramente su tanti temi, il Paese ha preso a cuore questa ennesima campagna elettorale, il Comune torna al voto, i cittadini sono chiamati al voto per scegliere il cittadino che si spera possa portare avanti il Comune fino a fine mandato e quindi dare anche le risposte a quelle che ormai sono le domande ricorrenti, tanti temi che affronteremo oggi in un dibattito, come vi ho detto, molto atteso, il Paese ci ha seguito, ci ha seguito anche grazie a degli approfondimenti che abbiamo fatto nelle ultime settimane su quanto accadeva nel Paese, un po' di polemica ma affronteremo ogni cosa insieme, i protagonisti oggi saranno però su Antenna Sud, qui da Surbu, i candidati sindaci, quattro, due donne e due uomini, ve li presenterò subito dopo la pubblicità, rimanete su Antenna Sud. Bentornati in diretta su Antenna Sud, allora vi presento immediatamente per entrare nel vivo del nostro appuntamento odierno, i confronti elettorali Puglia e Basilicata, un momento atteso per la nostra emittente, ci permette di andare nei territori, tanti confronti che stiamo facendo proprio negli studi di Francavilla e di Bari, Surbu abbiamo voluto farlo qui in sede, era previsto il confronto elettorale in piazza, non è stato possibile a causa del tempo che non è stato clemente e quindi abbiamo scelto una location chiusa proprio per permettere anche ai cittadini di Surbu, molto attivi e molto vicini alla politica cittadina, di vivere a pieno il dibattito e quindi respirare sulla pelle a quella che poi è la politica che giornalmente amano vivere. Vi presento subito i candidati, i cittadini di Surbu già li conoscono bene, i nostri tre spettatori interregionali un po' meno, diamo il benvenuto alla candidata Filomena Dantini, candidata per la lista insieme per Surbu e Giorgi Lorio, benvenuta Dantini. Grazie, buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori. Diamo il benvenuto a Ronni Trio, sindaco uscente, ricandidato con la lista Surbu in comune, benvenuto Trio. Grazie, buonasera a lei e ai telespettatori di Antenna Sud. Diamo la benvenuta a Martina Gentile, candidata con la lista ora Surbu, vice sindaco uscente, benvenuta Gentile. Grazie, buonasera, grazie per l'opportunità di confronto. Grazie a voi, benvenuto a Lino Palladini, candidato con la lista impegno comune per Surbu e Giorgi Lorio. Grazie mille, Palladini. Grazie, buonasera a tutti, anche a Cielo Ascolta attraverso Antenna Sud. Almeno una chiarezza, vi spiegheremo subito a voi, ai nostri telespettatori, ai candidati, sindaci e al pubblico che ci segue, come funzionerà il confronto. Due minuti, un timer che i nostri candidati e voi da casa vedrete in sovraimpressione per rispondere a ogni domanda. Ovviamente a noi piace, come Antenna Sud, a me particolarmente, il principio di chiarezza. Nei giorni scorsi c'è stata un po' di polemica, devo dire solo a Surbu, negli altri comuni dove abbiamo fatto i confronti non c'è stata tanta polemica, sulle domande. C'è chi pensava che qualche candidato sindaco potesse essere avvantaggiato rispetto ad un altro con delle domande fornite in precedenza. Ovviamente parlava chi non conosce bene me perché non amo molto dare delle indicazioni, mi piace un confronto vero e reale. Leale, prima per il rispetto mio, della mia professione e poi dei telespettatori. Per cui ho chiesto il Tempore, giorni addietro, prima che si accendesse questa polemica, ma conoscendo spesso anche il territorio in cui si opera, a ogni candidato di preparare dieci domande, di scriverle su un foglio bianco anonimo, quindi in modo che non possa essere riconoscibile, di tagliarlo a striscerelle, di chiuderlo, così come facevamo a scuola, quando andavamo a preparare i compiti, avevamo bisogno delle cartuccere, molti di noi lo ricorderanno, e di consegnarli in diretta. Ringraziamo anche il mio operatore, camera personale, che ci ha fornito la bolla Matteo Russo, quindi questa sarà la bolla delle vostre domande. Io vi ho chiesto di prepararle, Paladine, lei la preparate? Le versi qui. Lo facciamo in diretta, in modo che i nostri spettatori vivono proprio quelle che è la campagna elettronica nel vivo. Gentile. Trio. Dantini. Io do il programma, sono le informazioni principali del nostro programma, non ho preparato domande perché mi fido dell'operato di Antenne Sud. Io te le restituisco perché il programma lo conosciamo. Ci atterremo a quelle che saranno le domande che hanno fornito i colleghi. Ovviamente però è importante sapere che noi siamo in collegamento Facebook e in collegamento streaming. Quindi ci saranno dei collegamenti che la nostra collega Barbara Magnani, che ci raggiungerà tra brevissimo, e curerà, quindi se qualche supporter o qualche cittadino vuole fare una domanda in più indirizzata a tutti e quattro i nostri candidati, ce lo può fare, la collega Magnani prontamente ce la leggerà. Nel frattempo, per adesso, queste sono le domande alle quali dovrete rispondere. Ovviamente gli sorteggeremo una domanda alla volta, risponderete a rotazioni in modo alternata. Quindi parteremo dalla prima domanda da Paladini, risponderà per primo, può seguire Gentile Trio Dantini, dalla seconda domanda incomincerà la Gentile e quindi a rotazioni. Insomma saranno tutti primi nella risposta e ultimi nella risposta, quindi parità in tutto. Chi sono i nostri candidati? Noi abbiamo preparato con il collega della redazione di Lecce, Paolo Franza, delle schede illustrative professionali su chi sono i candidati che mirano ad occupare la poltrona di primo cittadino di Surbo. E quindi partiamo dal primo candidato in ordine di seduta a questo punto, se la regia è pronta, con la scheda di Lino Paladini per vedere chi è Lino Paladini nella vita e nella professione. Pasquale Paladini nasce a Surbo il 6 aprile del 1955. Nell'81 si laurea in medicina e chirurgia all'Università degli Studi di Cheti. Nell'86 ottiene la specializzazione in pediatria presso l'Università di Modena e nel 91 quella in ematologia generale presso l'Università di Bari. Dal 2019 ad oggi è responsabile dell'Unità Operativa Complessa di Pediatria all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Nella sua lunga carriera è stato ufficiale sanitario supplente presso il Comune di Surbo. Ha svolto attività di pediatria senza scopo di lucro dal 1995 presso la Comunità per le gestanti e madri con figli a carico e la Comunità per minori della Congregazione delle Suore Discevoli e del Sacro Cuore di Gesù di Lecce. Ha prestato servizio presso diverse strutture sanitarie come il Melli di San Pietro Vernotico, il San Giuseppe da Copertino. Ha ricoperto incarichi come componente della Commissione per i Diritti dell'Infanzia, giudice onorario per la Corte di Appello di Lecce e presso il Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Attualmente è anche tutor formatore per medici specializzanti in pediatria presso l'Università degli Studi di Bari e studenti in medicina presso l'Università di Trieste. Tra gli anni 80 e 90 ha svolto il ruolo di docente di biochimica, dietologia, dietoterapia, pediatria, puericultura, anatomia, immunologia, medicina sociale, endocrinologia e tecnica professionale presso le scuole infermieri professionali delle allora usle locali. Nel lungo curriculum anche oltre 70 lavori editi a stampa ed abstract di lavori presentati a congressi. Ecco, professionalmente questo è il candidato Palladini. Palladini perché ha scelto di mettersi in gioco? Aspetti, facciamo partire il timer. Ma vedo che questa sera lo so che è bisogno da me per iniziare questo dibattito. Non lo so, forse perché rappresentiamo il nuovo in questa competizione elettorale. probabilmente anche perché gli altri candidati costituiscono una direvazione di un vecchio tronco amministrativo. La domanda che mi ha fatto la dottoressa è che dopo un'attenta riflessione ho maturato di nuovo, ho deciso di mettermi nuovamente in servizio per la nostra comunità in modo tale da dare qualcosa. Un microfono. Quindi dicevo, dopo un'attenta riflessione ho deciso nuovamente di mettermi a disposizione della nostra comunità per dare un aiuto comunque e contribuire al sviluppo economico e culturale della nostra comunità di Surbo e Giorgi Lorio. Ma non è solo per questo. È per cercare di risolvere o comunque di migliorare alcuni problemi annosi che purtroppo la vecchia amministrazione non è riuscita a risolvere o comunque a migliorare. E pertanto praticamente abbiamo, mi sono candidato sindaco con la lista impegno comune per Surbo e Giorgi Lorio anzi in questa diciamo occasione vorrei ringraziare tutti coloro che hanno aderito alla mia lista e hanno condiviso con me questo programma che noi comunque abbiamo già in alcune occasioni fatto diciamo dimostrato i nostri elettori. In questo programma che noi cercheremo praticamente di diciamo di completare o comunque di svolgere nell'arco degli ultimi cinque anni. Nell'arco dei prossimi cinque anni. Mancavano cinque minuti ma possiamo dire terminati cinque secondi possiamo dire terminato l'intervento del candidato Paladini. Vediamo se la regia è pronta. La seconda scheda professionale chi è a livello professionale la candidata Martina Gentile. Martina Gentile nasce a San Pietro Vernotico l'1 giugno del 1986. Dopo la maturità classica conseguita nel 2005 si laurea nel 2008 in lettere moderne con il voto di 110 su 110 lode accademica. Nel 2010 conquista la laurea specialistica in lettere moderne sempre con il voto di 110 su 110 lode accademica. Bazzica qua e là in alcune testate giornalistiche e nel frattempo tiene il certificato di frequenza al corso di giornalismo e critica d'arte. Nel 2013 sulla base degli studi fatti ottiene l'abilitazione all'insegnamento della lingua italiana e del latino nei licei. Dal 2013 al 2018 è stata consigliera di opposizione. Da quell'esperienza politica è scaturita un'associazione di promozione sociale di cui è attualmente presidente, la Svolta APS, che vanta numerosi progetti educativi e formativi. ha collaborato in passato con le segreterie politiche di diverse personalità di rilievo, è collaborato con l'Agenzia regionale Arti nell'ambito dell'Osservatorio regionale Sistemi di Istruzione e Formazione, è una docente di lettere e da qualche anno per propria scelta insegna presso l'Istituto Valsami di San Pietro Vernotico nel corso serale. È inoltre un'esperta di progettazione e collabora con istituti, enti del terzo settore e associazioni per intercettare fondi e tradurli in progetti culturali e formativi. Appassionata di letteratura, ha scritto in passato romanzi e raccolte diversi. Grazie a Paolo Franza per la scheda della candidata gentile. Candidata gentile, a lei la stessa domanda, due minuti per la risposta. Perché ha accettato questa sfida? Ho accettato questa sfida perché ritenevo che dovessimo dare continuità ad alcuni fatti, ad alcuni atti che sono stati compiuti in questi due anni di amministrazione. Era come se qualcosa restasse da completare e grazie alla forza e allo slancio che tante persone mi hanno dato ho deciso, ho scelto, di rimettermi in gioco dopo un primo momento di scottante delusione. e grazie al sostegno dei candidati che hanno scelto di sostenere questo progetto ci proponiamo di portare avanti un'idea di cambiamento radicale della nostra città che possa dare pieno sviluppo e valore al nostro territorio. Il motivo per cui la nostra proposta politica è quella di Ora Surbo non parla di passato e non parla di futuro ma parla di presente perché è giusto è arrivato il tempo è giunto il momento che Surbo abbia ciò che merita che Surbo possa finalmente mettere a frutto le tante risorse su cui purtroppo da molto tempo siamo seduti. Io di solito utilizzo questa metafora quella di noi comunità, noi cittadini seduti su uno scrigno abbiamo la necessità di alzarci e di liberare quelle risorse che sono dentro quello scrigno per mettere a valore la nostra città. Io non mi sento il vecchio non mi sento qualcosa del passato ma sento di poter essere come dire un usato garantito perché finora credo che qualche risultato alla nostra comunità sia stato dato e quindi mi rimetto in gioco per ultimare e completare quello che è stato avviato. E grazie mille alla candidata gentile il terzo candidato Ronny Trio vediamo chi è Ronny Trio da punto di vista professionale vediamo la scheda del collega Paolo Franza Oronzo Trio detto Ronny nasce a Surbo il 24 febbraio del 1971 dopo il diploma di ragioniere perito commerciale conseguito presso l'istituto tecnico commerciale Costa di Lecce si laurea in scienze economiche e bancarie all'università degli studi di Lecce con votazione 110 su 110 con l'ode nel 1996 segue il corso di perfezionamento in diritto tributario università degli studi di Lecce è iscritto all'ordine dei dottori commercialisti per la circoscrizione del tribunale di Lecce dal 1997 e il registro nazionale dei revisori contabili del 1999 è professore associato di economia e gestione delle imprese all'università del Salento dove insegna marketing turistico e marketing management del terzo settore è revisore contabile socio della società italiana di marketing della società italiana di management alle spalle anche la scrittura di numerosi saggi e pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali crede fermamente nella necessità di diffondere ed ampliare la cultura di impresa nel territorio nel tempo libero coltiva due grandi passioni quella di speaker radiofonico e quella di portiere di calcetto è conduttore radiofonico per passione ed ha di recente pubblicato un volume dal titolo La radio un amore lungo una vita con il quale racconta la sua lunga esperienza radiofonica di oltre 35 anni con l'obiettivo di sostenere attraverso i proventi delle vendite le attività degli oratori di Surbo e Giorgi Lorio è attivo nel sociale come volontario di un'associazione no profit a Surbo e operatore di clown terapia presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce è stato sindaco del comune di Surbo dal 2020 al 2022 Roni Trio stessa domanda a lei due minuti per la risposta perché ha accettato questa sfida? Beh ho accettato questa sfida per dare un senso a un percorso che è stato interrotto e che è inevitabilmente necessario riprendere e completare con i contenuti di un programma che in parte riprende quanto non è stato fatto e completato visto che dopo due anni l'esperienza amministrativa si è conclusa e poi per avviare nuovi progetti e nuove attività il nostro programma si fonda su due pilastri il primo è quello che vede diciamo come obiettivo al quale tendere una Surbo solidale una Surbo vicina ai bisogni della gente una Surbo che si senta comunità e che quindi attraverso questa visione riesca anche a raggiungere dei risultati che da soli non si possono ottenere e poi l'altro troncone per così dire del nostro programma è quello di una Surbo competitiva mi piace pensare ad una città che guardi avanti con obiettivi ambiziosi e che lo faccia attraverso lo sfruttamento delle sue risorse che non sono poche per quanto spesso le teniamo un po' sotto traccia e ne ignoriamo il potenziale ecco la competitività di una città può nascere da un programma amministrativo condiviso in effetti il nostro è un programma che nasce proprio da una sinergia che tutti coloro che hanno aderito al progetto hanno condiviso appunto e abbiamo fissato dei punti fermi attraverso i quali siamo certi da qui al 2028 se gli elettori vorranno premiare la nostra candidatura riusciremo a dare a Surbo un volto nuovo ma soprattutto a riempire di contenuti competitivi quello che è il percorso che da qui in avanti vorremmo compiere cioè noi vogliamo sostanzialmente che il territorio il territorio di Surbo non abbia nulla da invidiare i territori delle comunità limitrofe e che riesca attraverso delle strategie puntuali precise mirate a raggiungere delle risultanze che saranno quelle derivanti dai progetti che forse mai sono stati pensati e realizzati qui a Surbo e Giorgio Loro ovviamente Benissimo due minuti perfetti quelli utilizzati da Trio vediamo la quarta candidata Filomena detta Mena Dantini vediamo chi è la Dantini da punto di vista professionale Filomena Dantini nasce a Foggia il 23 febbraio del 1971 consegue il diploma magistrale e la laurea in giurisprudenza ottenendo l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel foro di Lecce parallelamente ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria scuola secondaria nelle discipline giuridiche ed economiche specializzazione sostegno e mediatore familiare dal 2009 ad oggi è coordinatrice organizzatrice relatrice responsabile scientifica delle iniziative in favore delle donne finalizzate alla promozione delle politiche attive del lavoro di azioni antidiscriminatorie del lavoro femminile di azioni di contrasto alla violenza sulle donne azioni a tutela della famiglia della disabilità anziani immigrazione e minori e welfare in generale come consigliera di parità della provincia di Lecce ha attuato specifiche iniziative antidiscriminatorie in ambito lavorativo e promosso l'istituzione del tavolo permanente per le politiche di genere ha realizzato un coordinamento con tutti i comuni del Salento definendo un calendario unico di iniziative in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne tra le numerose attività di sensibilizzazione sui temi della parità di genere ha ideato e lanciato la rassegna di teatro colpi di genio e tra le attività di formazione ha promosso diversi ma uguali una serie di convegni formativi con il coinvolgimento di istituti scolastici ordini professionali e antilocali e questa era la scheda della candidata Mena Dantini Dantini ha lei la stessa domanda perché ha accettato questa sfida beh innanzitutto per dare un governo stabile al comune di Surbo un governo che dure cinque anni che veda impegnati amministratori e amministratrici H24 io personalmente mi metterò in aspettativa non retribuita per svolgere il ruolo di sindaco laddove i cittadini di Surbo dovessero preferire appunto la nostra lista e il nostro programma io sono fermamente convinta che fare il sindaco è un atto di grande responsabilità e generosità perché quando lo si fa dedicandosi H24 come io vorrò farlo non solo all'interno della casa comunale ma anche in mezzo insieme alla gente allora si ha la consapevolezza che fare il sindaco è una grande azione di responsabilità e quindi con responsabilità vorrò svolgere questa funzione il nostro programma parte da tre concetti chiave la persona la famiglia e la comunità per noi la persona sarà al centro dell'azione amministrativa la famiglia è un nucleo importante per lo sviluppo e la crescita sociale e civile di una comunità e la comunità siamo tutti noi cittadini di Surbo che vogliamo avere un governo stabile che duri cinque anni e non più che dopo poco tempo vada in commissariamento credo che la mia candidatura possa servire a questo e possa mettere a disposizione anche l'esperienza acquisita perché io ho già fatto il consigliere comunale l'assessore comunale a Surbo ho avuto l'onore di rappresentare Surbo nei 96 comuni della provincia di Lecce da assessore provinciale ho fatto competizioni importanti Parlamento europeo Parlamento italiano quindi è arrivato il momento che la mia esperienza venga concentrata e dedicata ai miei concittadini cittadini al territorio nel quale vivo perché io voglio dire in giro che sono orgogliosa di essere cittadino di Surbo voglio dire in giro che sono orgogliosa di essere il primo cittadino di Surbo Finito il tempo Dantini io rinnovo ringrazio gli ospiti e i candidati che hanno mantenuto bellantemente il tempo vi chiedo la cortesia di continuare a mantenerlo proprio il tempo parlamentare in modo da poter entrare nel vivo del dibattito do il benvenuto alla mia collega Barbara Magnani Barbara fa parte della redazione di Lecce noi siamo una grande squadra che apriamo sul territorio e lei oggi sarà addetta a quello che è il giornalismo social esatto quindi scrivete sulla pagina facebook sul sito stanno già arrivando i primi commenti e anche qualche domanda devo dire perfetto al rientro della pubblicità entreremo anche a sentire cosa stanno pensando delle curiosità dei Surbini che ci stanno guardando da casa sul canale 14 ci fermiamo un minuto per la pubblicità e torniamo subito su Antenna Sud in diretta da Surbo bentornati siamo in diretta da Surbo il confronto tra i quattro candidati sindaci due candidate donne due candidati uomini per contendersi la poltrona come piace dire anche agli esponenti di politica nazionale ormai del palazzo di città di Surbo ecco una domanda a Bruccia Pello avete un secondo candidati per rispondere Dantini se lei va in una città che non conosce dove va con il primo luogo? Milano no se lei va in una città che non conosce credo che lei Milano la conosca qual è il posto dove va quando esce dall'albergo dove va per trovare gente? nella piazza centrale Trio lei dove va? vado in centro ripeta Dantini che mi hanno sentito nella piazza centrale Gentile lei dove va in una città che non conosce? nella piazza centrale Paladini lei dove va? nella piazza centrale allora io sono andata sono venuta a Surbo da neofita tutti mi conoscono insomma sappiamo che io a Surbo lo conosco bene ma sono venuta per lavoro come giornalista di Antenna Sud un giorno a fare un servizio e volevo vederlo con gli occhi di chi viene per la prima volta e quindi sono andata nella piazza centrale sono andata non alle 3 del pomeriggio non alle 9 del mattino come qualche commento che ci è arrivato simpatico con gli ardi che li leggo sempre con molta allegria perché poi a me piacciono le sfide io mi diverto anche facilmente siamo andati alle 12 testimone il mio operatore che fa coppia sempre con me nei servizi Matteo Russo siamo andati in piazza abbiamo acceso i microfoni abbiamo documentato quello che ce l'abbiamo raccolto qualche testimonianza qualche testimonianza che non è piaciuta alla comunità surbina io la rifaccio vedere ai nostri telespettatori e poi partiamo da qui cioè da quale sarà la visione di centro storico che hanno i nostri candidati sindaci intanto vi facciamo vedere noi con le telecamere di Antenna Sud cosa abbiamo documentato buongiorno le posso fare una domanda cosa chiederebbe al nuovo sindaco di Surbo lo conosco proprio ancora ci do a cacere ma lei cosa gli chiederebbe no niente guarda non chiedo niente ma tutto bene chiedo che dovrebbero fare qualcosa prima ai cittadini e poi a loro stessi bello bagliaccio e non sappiamo chi è non sappiamo chi è io lo conosco non lo conosco e non l'avete ancora eletto una volta il sindaco nuovo non l'abbiamo sentito ancora bella mia e quindi al nuovo sindaco cosa chiederebbe io tante cose siamo a Surbo uno dei comuni del Salento che si appresta a eleggere il nuovo sindaco sono quattro candidati due donne due uomini ma cosa chiederebbero i cittadini al nuovo sindaco poco si vota a Surbo cosa chiedereste al nuovo sindaco come prima cosa a che cosa dei soldi ce ne abbiamo a chiedere prima cosa devi fare un pochettino la piazza un po' di illuminazione che è carente la sera è buia o ci abbiamo delle vie dove camminiamo spesso insomma tante sono le richieste ma non mancano le critiche e anche i dubbi chi è il nuovo sindaco questo è prima dovrei eventuale nuovo sindaco prima dovrei sapere chi è il nuovo sindaco perché c'ho da dire a tutti e quattro qualcosa guarda non chiedo proprio niente che non fanno niente ugualmente io non so niente guarda io non so niente per lei va tutto bene sì sì tutto bene grazie a Dio quando stiamo bene a casa mia stiamo bene tutti quanti Surbo è diventato un paese di bagliacci perché il sindaco a Surbo più di un anno non turo e va a terra non ci sono luci non ci sono panchine in piazza lei cosa chiederebbe? io scorsette cose sono le scorsette scorse del milone del San Gimisco ecco questo è il servizio che ha acceso la polemica positiva positivissima perché nel paese e come in tutte le città è bene che la politica faccia discutere faccia parlare perché i cittadini sono chiamati a votare la persona che li rappresenterà e quindi ogni critica ogni commento è positivo questo servizio ha acceso il primo dibattito tant'è vero che tanti sono stati i commenti arrivati a me personalmente a volte potete farli anche pubblicamente non c'è problema io non mi offendo tante sono state le condivisioni con una raffica di commenti simpatici alle volte meno ma fa parte del nostro gioco perché non avremmo rappresentato la comunità in realtà candidati quando si va in una piazza e si documenta quello che si trova vi assicuro che noi abbiamo tagliato tanti commenti che non erano televisivi non li potevamo mandare in onda quindi vi dico senza paura di essere smentito che forse la realtà alle volte è anche peggio da quella che è stata rappresentata quindi candidata Gentile qual è il suo programma per il centro storico di Surbo Sì allora è evidente che serva una riqualificazione del centro storico per consentire anche un ripopolamento l'ex municipio è pronto ad aprire i battenti è stato ottenuto un finanziamento pari a 140.000 euro affinché all'interno sorgesse la biblioteca comunale uno spazio di co-working una sala civitas per le riunioni delle associazioni dunque vedere questo spazio finalmente come uno spazio di condivisione uno spazio in cui la città possa ritrovarsi è uno spazio in cui soprattutto i giovani possano attingere a fonti di conoscenza come la biblioteca appunto garantirà loro e anche utilizzare il wifi libero dunque ripopolare la piazza di giovani può rappresentare sicuramente un antidoto contro diciamo una forma quasi di invecchiamento della vitalità di questa città questa città deve ritrovare la propria energia e i ragazzi da questo punto di vista possono rappresentare davvero una forza formidabile il centro storico inoltre ci piacerebbe riqualificarlo ci piacerebbe riqualificare inoltre il centro storico attraverso degli incentivi anche per creare un sistema armonico per quanto riguarda le facciate e poi organizzare tanti eventi perché questo cuore pulsante possa finalmente tornare a battere rassegne di cinema all'aperto durante l'estate rassegne perché no anche letterari all'aperto e poi utilizzare parte dell'ipogeo che è stato riportato alla luce nell'ex municipio come sala nella quale tenere per esempio delle mostre anche fotografiche per valorizzare quelle che sono le tradizioni del nostro territorio della nostra città dunque tutto questo può certamente contribuire al rilancio del centro storico ad una rigenerazione che è quantomeno necessaria e che riteniamo con le misure adottate all'interno del nostro programma possa davvero avvenire benissimo grazie mille a Martina Gentile e Ronni Trio qual è la sua visione del centro storico ma diciamo che quello che abbiamo visto durante il servizio è uno spaccato ma non è la rappresentazione complessiva della nostra città evidentemente parliamo di centro storico sì sì intendo dire che quella piazza deve rivedere ritrovare un'identità che ha perduto io ricordo ne ho parlato anche in un libro pubblicato di recente quello che era la piazza piazza unità europea negli anni 80 era il il fulcro della città il luogo nel quale si concludevano i contratti si facevano gli affari il luogo in cui si organizzava la giornata lavorativa successiva era il cuore pulsante e devo dire che in questa logica noi ci siamo mossi anche come amministrazione perché l'input è stato devo dire recepito anche dal commissario straordinario che attualmente regge il comune perché proprio di recente con una delibera del 13 aprile la numero 43 ha approvato uno studio di fattibilità che riguarda proprio il centro storico che riguarda proprio piazza unità europea quindi in coerenza con quelli che erano stati gli indirizzi che la mia amministrazione aveva lasciato come dire in eredità e con questa delibera si approva un progetto che di messa in sicurezza ma anche di riorganizzazione e di riammodernamento di quella piazza è un primo passo se dovessimo come mi auguro essere noi a governare Subbo nei prossimi 5 anni daremo continuità a quel progetto che a sua volta dà continuità a dei nostri indirizzi politici e finalmente piazza unità europea potrà tornare ad essere quel salotto che era negli anni 80 quindi con una rinnovata identità con un rinnovato stile con un rinnovato anche ambiente che si lega anche a quello che è la vecchia sede municipale sulla quale abbiamo appunto investito i 140 mila euro concessi dal GAL per tutte quelle attività che sono previste progettualmente grazie mille al candidato Trio candidata Dantini qual è la sua visione per il centro storico di Subbo beh io immagino un centro storico vivo nella nostra lista noi abbiamo candidato ragazzi molto giovani a me piace che ci siano gli anziani ci sono gli anziani nel centro storico e nella nostra piazza che è vissuta principalmente ma io direi quasi esclusivamente dagli anziani però le due generazioni insieme non sono incompatibili io spero che i ragazzi possano popolare la piazza e per fare questo dobbiamo valorizzare la piazza non solo in termini strutturali immagino quindi azioni di decoro urbano importanti sia nei colori nelle luci nella ristrutturazione degli edifici dando anche degli incentivi poi valuteremo con gli uffici con l'ufficio tributi se si può pensare a una nota x area per l'addizionale IRPEF o una riduzione fiscale per chi apre attività commerciali e attività per i giovani quindi una valutazione a 360 gradi che riesca a far convivere nella piazza i diversamente giovani con le nuove generazioni perché le nuove generazioni sono quelle che danno vita manifestano la vita e la vivacità di una comunità e di una città grazie mille alla candidata Dantini candidato Palladini qual è la sua visione per il centro storico di Surbo la piazza come tutte le piazze delle altre città è ancora oggi il centro rappresentativo della nostra comunità però sicuramente non è ben presentata penso che tutti noi in questi giorni che abbiamo frequentato un pochino di più il nostro centro per incontri politici per comizi ci siamo resi conto che ha bisogno purtroppo di interventi abbastanza anche importanti e anche nell'intervista che abbiamo visto diverse persone ci hanno fatto notare che c'è qualcosa che nella piazza non va io penso che come primo intervento intanto bisognerebbe potenziare l'illuminazione io forse ripristinerei i vecchi lampioni se ancora esistono cercando di rispolverarli tutti quanti questi lampioni per poter ripristinare diciamo quello che una volta era di bello nella nostra piazza poi penserei di aumentare di potenziare anche il numero praticamente della possibilità di poter far sedere le persone in piazza quindi diciamo perché hanno lamentato che sono insufficienti i posti a sedere aumenterei anche il verde pubblico rispetto a quello esistente e quindi farei diciamo queste azioni per rendere un pochino più importante e più elegante la nostra piazza facendola diventare un salotto penso che migliorando la nostra piazza sicuramente è un incentivo anche per tutte le attività commerciali che ruotano intorno al nostro centro perché facendo rivivere di nuovo la nostra piazza sicuramente è un vantaggio anche per tutte le attività commerciali che sicuramente avranno un incremento visto che in questo periodo vedo che tutte le attività commerciali presenti intorno alla nostra piazza purtroppo sono in sofferenza e quindi oltre a questo cercherò anche di mettere in di riaprire almeno una parte del vecchio comune dove poter svolgere incontri culturali in modo tale da avvicinare sempre di più la nostra comunità intorno diciamo a questa piazza molto bella una volta Candidato Paladini benissimo ha terminato il tempo Barbara come stanno andando i social? Sono molto attivi tutti i nostri spettatori non domanda se c'è qualche commento simpatico allora ci sono dei messaggi di sostegno a vari candidati diciamo qualche vena polemica ovviamente anche di per evitare assunzioni parenti amici sa che questo è un tema sempre molto dibattuto questi diciamo sono i commenti più vivaci poi tanti tanti commenti tante domande però devo dirti Maria Teresa sono curiosi i cittadini di sapere un po' non solo a Surbo ma c'è qualcuno che allarga anche la visione alla città di Lecce sappiamo la vicinanza anche con il capoluogo Salentino quindi si allarga e devo dire sono noi aspettiamo ancora però i candidati devono tenersi molto pronti commenti inerenti Surbo piccanti ci sono piccanti piccanti ancora piccanti ancora no devo dire allora noi partiamo dalla nostra bolla qui come abbiamo spiegato i nostri tre spettatori ci sono le domande sono 30 erano previste 40 domande ma la candidata Dantini è andata in sciopero bianco non le ha volute consegnare per cui noi facciamo sorteggiare proprio a lei la prima domanda e partiremo con la prima domanda dal candidato trio perfetto e questa è la domanda che ha sorteggiato la candidata Dantini vediamo sono domande che hanno scritto i candidati stessi 10 domande a testa noi ovviamente ne sorteggeremo qualcuna la prenderemo dai social qualcuna concedetemi la giornalista la farò io cosa farà il primo giorno da sindaco se venisse eletto Roni Trio anche la stanza banale vi siete partiti sul morbido vi siete voluti bene partiamo col senso se dovessi essere nuovamente sindaco il primo giorno andrò nelle scuole di surbo andrò nelle scuole di surbo perché credo che con i bambini si sia instaurato nei due anni in cui ho fatto il sindaco un rapporto bellissimo ma oltre a questo credo che con i bambini bisogna costruire un rapporto che porti i bambini stessi a sentirsi rassicurati e sicuri vedendo nel sindaco una figura che appunto li rappresenti io in questi due anni credo che la cosa in assoluto più bella che porterò con me come ricordo di questa esperienza è proprio il rapporto con i bambini il fatto di anche di incontrarli per strada di essere riconosciuto di essere salutato col sorriso e con la dolcezza che soltanto i bambini sanno darci è un premio al rapporto che ho voluto instaurare con loro e credo che noi dobbiamo riflettere sul fatto che tra 5, 6, 10 anni al massimo quei bambini potrebbero essere gli amministratori della nostra surbo di domani e dobbiamo assecondare anche quelle che sono le loro aspettative i loro progetti i loro desideri i loro sogni e dare dei buoni esempi dare degli esempi positivi costruttivi che siano la base su cui poi costruiranno la loro vita futura non dobbiamo trascurare che anche i silenzi anche gli sguardi anche i non detto dei bambini hanno un peso importante hanno una rilevanza importante perché è lì che si costruisce la coscienza civica del domani ed è su di loro che dobbiamo puntare in primo luogo ecco perché dico il primo giorno forse non passerei nemmeno dal comune sinceramente andrei direttamente a scuola perché è con loro che voglio riprendere quel discorso interrotto e anche quella relazione come dire reciproca che si è venuta a determinare qui si va a coltivare subito i nuovi potenziali elettori diciamo credo che quando saranno loro elettori io sarò ancora in campo non credo benissimo grazie a Ronnissio io e Trio rimane una rimanenza di 30 secondi circa poi nel corso del dibattito 30 secondi si era bloccato ah si era bloccato no non si era bloccato le regie mi dicono mi dicono di no e andiamo avanti candidata Dantini cosa farà il primo giorno se dovesse venire eletta sindaco azzeriamo il timer cortesamente beh io attenda lo vediamo a 32 secondi noi sul timer e no ma noi dobbiamo vederlo riusciamo a risolverlo se no aspettiamo temporeggiamo lo mandiamo e manuale vediamo un attimo allora finché risolvete questa cosa io intanto racconto un'altra cosa notizia dei spettatori è accaduta simpatica anche quando sempre dopo quando siete pronti ditemelo che io vi passo la parola ai candidati dopo il servizio andato in onda che non è piaciuto a Surbo giustamente effettivamente era un po' una realtà paradossale è stato carino io poi sono venuta a prendermi il caffè frequento Surbo sono capitata più persone mi hanno fermato dicendomi la prossima volta che viene a Surbo chiamami ti porto io dove devi andare a trovare delle persone da intervistare questo è stato il paradosso proprio il seguito di quel servizio perché quando si va in una comunità per trovare comunque delle realtà anche televisivamente socialmente piacevano c'è bisogno di prendere appuntamente ed essere portata in un posto a me piacerebbe anche che poi Surbo potesse essere tutto un salotto buono della città quindi questo è un appello che io faccio da persona che viene con gli occhi veramente di chi ci viene per la prima volta siamo pronti? ok allora candidati lo vediamo nel monitor piccolino quindi saranno i miei collaboratori Michele Sicoli che ci dirà quando sta per scadere il tempo candidata Dantini cosa farà il primo giorno da sindaco? allora io sono una persona molto concreta la prima cosa che farò incontrerò il personale del comune per attivare subito una serie di servizi necessari io in questi giorni ho raccolto tante lamentele da parte dei cittadini una cosa che vorrò fare subito e portare ad esecuzione è l'acquisizione di alcune strade sterrate del nostro comune dove vi sono delle abitazioni che non sono ancora urbanizzate perché il comune non può intervenire né per asfaltarle né per l'impianto di pubblica illuminazione perché non ancora sono state acquisite al patrimonio del comune quindi questa è una delle prime cose che farò ovvero l'acquisizione dei cosiddetti relitti per poter poi intervenire e poter dare ai cittadini che comunque pagano le tasse questo lo ricordiamo spazzature e quant'altro loro devono essere anche serviti da servizi importanti io vedo strade allagate strade piene di buche e quindi subito con gli uffici amministrativi con l'ufficio tecnico ci metteremo al lavoro per dare risposte importanti e interagiremo anche con gli organi col governo centrale abbiamo la mia è una lista di centrodestra quindi abbiamo un governo in linea con la la nostra squadra e quindi sicuramente riusciremo a capire quali sono le migliori misure per poter dare delle risposte concrete ai cittadini di surbo grazie mille dantini l'ultima domanda la stessa domanda al candidato paladini cosa farà il primo giorno da sindaco un attimo azzeriamo il timer ripartiamo un attimo paladini prego penso che prima cosa cercherei di incontrare i vari cittadini di surbo per vedere diciamo quali sono le loro idee e i loro problemi successivamente incontrerei gli impiegati comunali gli amministrativi perché loro sono il motore portante della nostra diciamo del nostro comune della nostra attività amministrativa e poi io darei priorità al pug cercherei di istituire un tavolo tecnico oppure un ufficio del pug coinvolgendo tutti i cittadini di surbo tutti i tecnici che lavorano o comunque nel nostro territorio cercherei di coinvolgere tutte le associazioni di tutta la comunità e comunque cercherei anche di coinvolgere tutti gli amministratori sia gli amministratori di opposizione che gli amministratori di maggioranza in quanto deve essere qualcosa di condiviso tra tutti noi e tra tutti i cittadini poi cercherei di visto che abbiamo parlato della piazza e abbiamo notato delle criticità della nostra piazza cercherei di migliorare la piazza come abbiamo già detto altra cosa che io farei è Viale di Pini a Giorgilorio Viale di Pini a Giorgilorio vedete che è l'ingresso principale del nostro quartiere che attualmente non è molto decoroso e quindi cercherei di migliorare questo ingresso di surbo perché sarebbe un buon biglietto di visita per quel quartiere penso che alle occhi di tutti che non è un buon biglietto di visita perché la strada è dissestata il verde pubblico non è ben incurato poi come altra cosa cercherei subito di di migliorare diciamo anche le attività sportive del comune di surbo iniziando dal campo sportivo è terminato il suo tempo Paladini tutto questo in un giorno tutto il primo giorno un giorno d'addio le occorre vorrei essere Paladini per un giorno il mio editore sarebbe contentissimo ok perfetto va bene ci fermiamo un minuto per la pubblicità torniamo subito in diretta qui da surbo per sentire quali sono i progetti per la comunità da parte dei nostri quattro candidati sindaco a tra poco bentornati nuovamente in diretta qui da surbo il confronto con i quattro candidati sindaci Barbara vedo che sui social mi hai detto nel forionda c'è tanto entusiasmo sono arrivati i primi commenti e anche qualche domanda un po' borderline partiamo dai commenti più simpatici per far piacere ai nostri sindaci poi qualche commento insomma che poi apre uno spaccato particolare esatto partiamo dal più simpatico che è un po' una risposta alla persona che avevi intervistato anch'io vorrei soldi devo dire che forse non è l'unico una richiesta che si fa sempre alla politica soldi posti di lavoro esatto soldi poi ci sono alcune critiche alcune necessità c'è chi dice vogliamo i servizi essenziali ci sono ancora diverse buche e già ho avuto degli episodi anche segnalati in alcuni punti del comune c'è anche chi non crede ancora la politica dice sono solo parole 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 è anche questo un pensiero condiviso poi insomma ci sono quelli di sostegno ovviamente non mancano anche da parte di una figlia di un candidato non dico chi intanto e poi ci sono la figlia di trio che manda un bacio da Milano e difende anche l'operato del papà così non vale toccate il punto più sensibile della mia esistenza devo dire c'è anche un lungo post che difende l'operato del padre quindi una testimonianza d'amore e noi andiamo oltre questo perché siamo in par condicio facciamo rispondere una battutina quindi sugli affetti familiari a ogni gentile cosa devi dire ah scusami 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 candidata gentile hai ragione iniziamo malissimo candidata gentile cosa farebbe il primo giorno da sindaco io cercherei di riprendermi esattamente lì da dove sono stata interrotta quindi mi metterei subito al telefono intanto per sollecitare l'impresa a riprendere immediatamente i lavori della scuola primaria di Giorgi Lorio visto che li vedo nuovamente fermi mi accerterei della pubblicazione della gara da un milione e mezzo dell'asilo comunale fondi PNRR e Bando Futura e mi farei condurre sul luogo in cui si stanno svolgendo i lavori di pluviale per la realizzazione della rete di captazione delle acque nel quartiere di Giorgi Lorio cercherei insomma di fare un giro di ricognizione per capire dove eravamo rimasti e riattivare immediatamente quanto è stato interrotto grazie mille la candidata gentile mi faccio perdonare candidata gentile peschi lei la prossima domanda se ci sarà un'espansione della zona PIP dove sarà iniziamo da lei Trio sarà sicuramente nella zona in cui risulterà più funzionale le esigenze delle attività produttive commerciali che insistono o insisteranno sul nostro territorio certamente il criterio che dovrà essere adottato deve essere al buio nel senso che la scelta dovrà partire ignorando le risultanze catastali questo è il principio guida che dovrà animarci quindi mettiamo un foglio sulle risultanze del catastro sugli estratti di mappa sui certificati catastali non leggiamo i proprietari e dopodiché cerchiamo di capire qual è la collocazione più appropriata per l'avvio di questa importantissima iniziativa progettuale che deve essere assolutamente garantita perché si tocca con questa domanda un punto sensibile e nodale della nostra città gli artigiani in particolare i commercianti hanno vissuto periodi difficili negli ultimi anni e soprattutto gli artigiani in particolare quelli di Surbo lamentano giustamente l'assenza di spazi insediativi l'assenza di spazi localizzativi delle proprie attività e credo che questo sia un debito che la città ha nei loro confronti le attività delle piccole imprese sono le attività che costituiscono l'ossatura della nostra economia e non possiamo ignorarle non possiamo soprattutto trascurare il fatto che ci sono attività artigianali che svolgono i propri cicli produttivi all'interno di spazi angusti piccoli stretti sostanzialmente con una palla al piede rispetto ai progetti di sviluppo che essi hanno quindi questo è in cima le priorità insieme a tante altre cose che magari se ci sarà tempo in modo diremo ma certamente in cima le priorità la valorizzazione del know-how dei nostri piccoli imprenditori che può essere valorizzato attraverso la zona PIP grazie mille Attrio stessa domanda Dantini allora io innanzitutto ritengo che l'ampliamento della zona PIP sia un atto doveroso da parte di ogni comune il nostro comune è un comune fortunato perché ha una zona PIP ci sono comuni che non ne hanno noi abbiamo anche un'area industriale importante abbiamo un'area commerciale quindi rappresentano veramente delle risorse importanti per noi per la crescita e per lo sviluppo di questo comune io ritengo che l'ampliamento vada fatto ovunque si possa trovare un riscontro di crescita e di sviluppo ma mi pare che ci sono dei parametri previsti comunque dal dato normativo bisogna ampliare già dove esiste una zona PIP per poi individuare andare su altre zone a prescindere da chi sia il proprietario dei terreni io questo voglio ricordarlo nei comuni si conoscono più o meno tutti quindi non ci sarà assolutamente un ampliamento indirizzato verso alcune aree escludendo altre è un paese che può offrire crescita e sviluppo ai nostri figli alle nuove generazioni e quindi le attività commerciali artigianali e industriali sono attività importanti da guardare con tanta tanta attenzione paradini il microfono si ricominciamo forse non si è sentito allora penso che oggi questo non si possa decidere in quanto innanzitutto volevo dire che la zona PIP diciamo è stata diciamo ampliata diciamo con l'amministrazione di Franco Vincenti quando io ero assessore alle attività produttive e quel piano l'abbiamo elaborato assieme con i tecnici comunali di allora oggi come oggi penso che non si può dire dove fare questa zona questo ampliamento perché deve essere l'ufficio del piano a regolare questo con il coinvolgimento di tutti i cittadini dei tecnici comunali dei tecnici operanti nel nostro territorio e quindi non possiamo decidere oggi o dire oggi sarà in quella zona o in quell'altra zona va bene indipendentemente da quali terreni noi possiamo utilizzare per il piano saranno i tecnici a dirci in base alle diciamo a base alla disposizione delle altre zone PIP dove eventualmente sarebbe meglio predisporre questo piano e quindi sarà l'ufficio del piano prima di tutto a darci delle indicazioni grazie mille Paladini Gentile se ci sarà un'espansione della zona PIP dove sarà dove la vedrà lei dunque nei primi cento giorni noi abbiamo inserito nel programma l'istituzione dell'ufficio di piano e dunque tutti gli strumenti come questo ovviamente che riguardano il settore dell'assetto del territorio e dell'urbanistica verranno messi in campo gradualmente attraverso chiaramente un percorso partecipato perché noi vogliamo fare tutto in assoluta trasparenza e garantendo la massima partecipazione da parte dei cittadini e degli stakeholders per quanto riguarda l'estendimento della zona PIP va rilevato preliminarmente però va rilevato preliminarmente un dato il fatto che si parla indistintamente di zona PIP omettendo però di prendere in considerazione quella che di fatto è un'area commerciale l'area attorno appunto alla copp e nella sua immagine un'area commerciale però ad oggi è ancora considerata una zona PIP pertanto io credo che occorra armonizzare il territorio anche da questo punto di vista prima di pensare a come e in quale direzione estendere la zona PIP certo la zona PIP deve rispondere alle esigenze degli artigiani di tanti artigiani che necessitano di maggiori spazi di spazi più consoni alla propria attività e io penso anche che un'azione di recupero degli oneri dovuti in quella che è considerata una zona PIP ma che di fatto è un'area commerciale sia necessaria e funzionale anche per ristabilire una forma di giustizia sociale nella nostra città per cui questo strumento come tutti gli altri strumenti urbanistici saranno improntati attraverso un ufficio di piano a partire subito dai primi cento giorni di mandato grazie mille gentile vorrei fare un approfondimento io a quanto detto i latini dicevano scusatio non petita accusatio manifestat sia trio che dantini nella risposta hanno detto una cosa per me molto importante che io vorrei che chiariste voi e poi seguire anche gli altri candidati trio ha detto espanderemo la zona PIP senza sapere a chi appartengono le zone dantini ha detto espanderemo la zona PIP ma non ci faremo non sarà importante di chi saranno le zone quasi come se voleste mettere un po' le mani avanti avete avuto ci sono state delle pressioni per l'espansione della zona PIP perché è importante non sapere di chi sono le zone l'espansione industriale prevede l'appartenenza perché questa precisazione in due casi su quattro è importante perché l'azione amministrativa deve essere trasparente efficace deve essere portata a termine quindi nella logica della trasparenza della buona amministrazione è irrilevante sapere se il terreno appartiene a Tizio in espansione o a Caio l'importante è che ci siano i parametri tecnici valutati poi dagli uffici competenti affinché la zona possa portare un risultato positivo una ricaduta positiva sul territorio grazie mille Paladini la stessa domanda a lei aggeriamo il timer cortesamente ci siamo via allora come ho detto prima non possiamo decidere adesso ma deve essere comunque l'ufficio del piano comunque secondo me i terreni dovrebbero essere espropriati come abbiamo fatto nel 2000 con l'amministrazione Franco Vincenti una volta espropriati devono essere riassegnati dal comune e pagati al prezzo di mercato allora abbiamo fatto questo bando considerando anche il diritto di riparazione per i proprietari che avevano già questi terreni in questa zona gentile a seguire azzeriamo il timer sì mi ricollego a quanto detto dal dottor Paladini sì in effetti i terreni andrebbero espropriati per cui non importa di chi siano nei fatti e ciò che conta è anche il fatto che una volta espropriati e ceduti affini appunto di insediamento artigianale si costruisca entro tre anni perché non dobbiamo mai dimenticarlo quei terreni poi devono rimanere nella disponibilità del comune quindi il bene pubblico va sempre garantito fino in fondo perfetto andiamo alla bolla intanto Barbara è arrivata qualche richiesta Ronni scusami Trio risposta qual'era la domanda perché ho fatto quella precisazione avete fatto la precisazione che la zona PIP non terrà presente a chi appartengono i terreni non ci sono state assolutamente pressioni in questo senso ripeterlo non fa male diciamo che puntualizzarlo è sempre un buon esercizio di trasparenza e quindi affermare e ricordare che le scelte amministrative le scelte di chi governa una città devono prescindere da interessi personali non è mai di troppo non è mai ridondante quindi soltanto questa è la ragione per la quale l'ho voluto puntualizzare perfetto Barbara c'è qualche volevo aggiungere aspetti però dobbiamo dare una replica è sempre sul tema va bene allora vediamo azzeriamo il timer poi se vogliono aggiungere qualcosa allo stesso tempo lo prenderanno gli altri candidati volevo dire che una volta che abbiamo diciamo stabilito che i nostri tecnici hanno stabilito la zona dove ci sarà questo momento devono essere espropriati quanto prima dal comune e di conseguenza riassegnati sempre dal comune al prezzo di mercato l'esproprio non deve durare molti anni va benissimo dovete integrare qualcos'altro a voi 10 secondi di integrazione nulla allora prendiamo un'altra domanda nel frattempo Barbara da casa i nostri telespettatori hanno fatto qualche richiesta in particolare allora ci sono dei commenti che riguardano la zona PIP che chiedono saranno nel caso assegnate alle attività di surbo oppure no c'è invece chi dice si è già estesa tantissimo quindi fa intendere non bisognerebbe toccarla e anzi servirebbero più spazi verdi hanno anche poi riproposto un po' l'attenzione sugli eventi questa è una cosa che ricorre in diversi commenti eventi e anche per i giovani chiedono anche questo cosa si fa per i giovani poi effettivamente e poi attenzione anche all'urbanistica le strade è un altro tema sono tantissimi i temi è un social molto attivo facciamo un giro velocissimo sulla domanda che si mantiene sulla zona PIP l'espansione prevede soltanto imprenditore di surbo eventualmente come l'immaginate ma penso che deve essere fatta una graduatoria una graduatoria dovrebbe essere fatta nell'assegnazione lei è gentile come la vede? come risponde a questo telespettatore? io aprirei ovviamente agli investimenti perché è giusto che la città se può risultare attrattiva lo sia fino in fondo si tratta di un'opportunità di sviluppo trio io vorrei dire c'era una doppia domanda in realtà si è già espansa abbastanza no no però teniamoci a questa ok su questa direi no non limitata agli artigiani di surbo ma non perché vogliamo penalizzarli ma in quanto offrire delle opportunità localizzative dare la possibilità alle imprese di insediarsi e quindi di creare sviluppo occupazione e quindi crescita del territorio credo che sia un obiettivo che dovremmo perseguire a prescindere dalla partenenza territoriale certo potremmo inserire delle premialità se vogliamo in base all'anzianità di iscrizione al registro imprese magari per chi soprattutto ha avviato l'attività a surbo potrebbe essere ma uso il condizionale un criterio di valutazione delle domande che verranno presentate a seguito dell'apertura del bando però non possiamo esclusivamente riservarlo agli artigiani soltanto di surbo ma anche perché potremmo rischiare di perdere delle opportunità come territorio io sarei contenta se gli artigiani di surbo partecipassero e investissero ancora sul territorio perché sono una forte sostenitrice della territorialità però se ci sono investitori che vengono da fuori nessuna preclusione è bene accoglierlo cortesemente al pubblico che io ringrazio per la presenza attenzione con i telefonini perché disturbiamo anche la messa in onda e la seconda domanda che giustamente sulla zona hanno fatto i telespettatori e su quale lei voleva rispondere partendo dalla candidata gentile c'è un limite all'espansione industriale un telespettatore dice è già abbastanza estesa non credo che sia abbastanza estesa in quanto le esigenze degli artigiani sono molto evidenti ci sono tante domande in comune presentate da artigiani che necessitano di spazio produttivo certamente c'è una forte esigenza di verde pubblico in questa città che nel nostro programma abbiamo cercato di contemperare attraverso la realizzazione di un piano del verde che preveda anche l'acquisizione al patrimonio pubblico di aree da rendere a verde attrezzato con la finalità di unire soprattutto i quartieri periferici attraverso delle quinte di verde al resto della città in particolar modo per esempio abbiamo pensato ad un parco urbano che colleghi surbo al quartiere di Giorgi Lorio attraverso via Primo Maggio Trio stessa domanda a lei secondo me la domanda nasce da un malinteso malintesa accezione della zona PIP la zona PIP è naturalmente destinata alle attività artigianali nel tempo però paradossalmente è diventata una zona commerciale perché perché le amministrazioni che ci sono succedute negli anni hanno accolto richieste di variante rispetto alla destinazione di quei terreni con il paradosso che oggi abbiamo una molteplicità di attività commerciali che per carità sono benvenute e danno indubbiamente anch'esse sviluppo alla città ma hanno sacrificato gli spazi per le attività degli artigiani quindi il discorso non è che non sia sufficientemente estesa lo è sicuramente ma è estesa e si è espansa appunto essenzialmente in favore dell'attività di tipo terziario quindi commerciale il che impone un ripensamento della filosofia sottostante alle scelte che l'amministrazione che verrà andrà a fare non possiamo ignorare questo aspetto zona PIP significa programma per gli insediamenti produttivi insediamenti produttivi attività che quindi fanno trasformazione di materiali in prodotti finiti falegname che trasforma il legno in un mobile per intenderci quindi non più commercializzazione pura ecco perché diciamo occorre ampliarla ma destinandola ed evitando che si verifichino alterazioni che secondo me sono un po' patologiche non fisiologiche della destinazione d'uso quindi destinandola agli artigiani altrimenti rischiamo di fare ancora una volta gli errori che secondo me tali sono di un passato in cui si è voluto sacrificare l'artigiano l'artigiano invece va valorizzato va tutelato va salvaguardato perché ricordiamoci che gli artigiani sono piccole imprese che ci mettono del proprio e ci mettono il sudore della fronte quotidianamente io ritengo che ci sono ancora spazi per l'amplimento dell'area artigianale e ritengo che questi spazi non tolgono nulla a nessuno perché il nostro è un territorio molto vasto molto esteso ricordo che gli insediamenti produttivi portano crescita e sviluppo ad un territorio portano anche occupazione quindi rappresentano veramente per noi una risorsa importante ripeto il comune di Surbo è tra i pochi comuni che ha un'area produttiva importante un'area che raccoglie appunto anche la grande distribuzione oltre all'area artigianale poi abbiamo una parte dell'area industriale della città copoluogo che ricadono nel nostro territorio sotto questo aspetto è un comune che può incidere ancora sul piano produttivo posso aggiungere una cosa se mi consente ma proprio sintetico vorrei solo dire questo in riferimento all'ampliamento della zona Pippi intanto noi non possiamo ampliare a parere nostro ma ci stanno comunque dei vincoli regionali e diciamo e questo lo decide anche il Pug diciamo che verrà proposto alla regione Puglia quindi non è che l'ampliamento lo possiamo decidere noi come vogliamo perché ci stanno dei vincoli regionali ma è condizionato anche dal Pug che noi presenteremo alla regione Puglia io so questo benissimo grazie mille a Paladini se necessario dopo la pubblicità ritorneremo sull'argomento oppure andremo avanti anche perché sono arrivate delle domande importanti tante ne vogliamo fare ancora ci fermiamo un minuto per la pubblicità e torniamo subito in diretta qui da Surbo con il confronto con i quattro candidati sindaci tra un minuto bentornati nuovamente in diretta da su Antenna Sud siamo qui in diretta da Surbo con i quattro candidati sindaci Dantini Trio Gentile Palladini schieramenti possiamo dire misti 64 sono i consiglieri candidati nella totalità a supporto dei quattro candidati liste alcune amatrice civica altre vedono esponenti di 5 stelle come nel caso di Ronni Trio matrice di centrodestra altre matrici insomma c'è un po' di possiamo dire non confusione perché sono liste che hanno preso una chiara identità però per chi conosce la storia anche politica del palazzo di città e vede delle strane travasi interessanti questo forma anche di interscambio politico di partito possiamo dire ha animato quelli che sono stati i confronti i comizi in piazza ecco nei paesi più che nelle città forse sente molto il confronto nelle piazze ed i comizi sono diventati momento di attenzione e di attrazione ma anche di confronto i social fanno da padrone le dirette facebook fanno da padrone per cui spesso anche chi non è presente nelle vostre piazze però vi sta guardando vi sta osservando e tanti sono stati i commenti che hanno acceso la curiosità in chi vi ha ascoltato faccio una domanda io partirà la candidata Dantini ma mi riferisco ad un un commento che ha fatto Trio durante il suo comizio che però mi piace affrontarlo perché poi è bene che se ne parli e Trio durante il suo comizio ha fatto dei riferimenti a degli incontri che spesso degli amministratori hanno fatto fuori da palazzo nel momento in cui c'erano o la sua o la precedente o comunque delle amministrazioni dicendo io gli incontri li farò tutti li ho fatti in palazzo li farò nel palazzo quando arriverà il suo giro lei chiarirà come meglio crede anche per spiegare a chi la sentiva perché io l'ho interpretata in un modo poi parlando con la comunità ognuno ha dato una lettura diversa a questa frase quindi sarebbe bene anche spiegarla intanto lei Dantini lei avrà sentito anche qualche critica che le è stata fatta come risponde a qualche critica che ha sentito liberamente qualche attacco che ha sentito quello che le ha fatto più male ha sentito forse più immeritato guardi io devo dire attacchi grosso modo no però durante un comizio forse l'unico è stato il candidato trio che ha chiesto ha detto che arrivano ministri ebbene è stato qui il ministro alla pubblica amministrazione tra l'altro ripeto è un ministro importante funzionale perché tutte le pubbliche amministrazioni dovrebbero incontrare il ministro Zangrillo anche alla luce delle risorse del PNRR che arriveranno sappiamo che i comuni sono in difficoltà col personale amministrativo per gestire poi queste risorse quindi è un incontro veramente importante c'erano anche amministratori dipendenti di altri comuni e ho sentito il sindaco uscente trio che ha detto arrivano qui fantomatici ministri mancavano solo veline poi si è parlato di spritz veline tacchi a spilo ho sentito delle cose un po' distoniche ma presumo che forse quel giorno forse insomma era un po' non lo so non voglio neanche capire perché abbia fatto certe affermazioni e io sono contenta di aver ricevuto qui il ministro della pubblica amministrazione siccome sono contenta di aver avuto la vicinanza di politici che possono seguirci nella nostra azione amministrativa ripeto perché i comuni da soli se non hanno il supporto degli enti sovraordinati riescono a fare ben poco anche alla luce delle minori entrate che negli ultimi anni hanno subito i comuni Palladini ovviamente io non mi riferisco soltanto al comizio del candidato trio in questi comizi qual è stato il commento la critica che le hanno fatto che le ha sentito più immeritate alla quale vorrei rispondere pubblicamente allora innanzitutto io condivido per quello che è stato detto la linea della trasparenza e penso che è proprio il comune che deve essere luogo di incontro e di trasparenza e questo per togliere tutti i dubbi e quindi diciamo ripeto sempre la trasparenza poi è chiaro che è normale che qualcuno possa andare nel bar vicino o lontano dal comune per prendere un caffè vorrei chiarire qualcosa perché forse non sono stato molto chiaro visto anche la domanda ritornando alla domanda precedente no no questo non me lo consente no 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 dobbiamo andare avanti nei temi teniamoci alla domanda in corso niente uno dei commenti che hanno fatto a me è che quella sera l'amplificazione si sentiva pochissima e quindi non riuscivano a interpretare quello che dicevano quindi solo criticamente tecnicamente mi è arrivata questa tecnica questi errori tecnici grazie mille gentile qual è stata la critica che ha sentito e la quale vuole rispondere pubblicamente beh io credo che non sia più il caso di continuare ad ammorbare i cittadini con accuse critiche non voglio rispondere a nessuna delle accuse a nessuno degli strali che mi è stato lanciato mi sarebbe piaciuto avere un confronto in questi mesi evidentemente qualcuno non lo ha voluto questa sera non mi sembra certo il caso di aprire questa parentesi è singolare che la candidata Dantini sia stata attaccata dal sindaco uscito in quanto so che vantava insomma un rapporto privilegiato con lui durante gli anni della passata amministrazione quindi è abbastanza singolare che adesso gli strali vengano lanciati dagli uni verso gli altri Dantini vuole rispondere prima diritto di replica 50 secondi rapporto privilegiato io un rapporto privilegiato forse con Paladini perché sono stato in amministrazione con lui quindi con Ronni c'è un rapporto di amicizia di stima poi sappiamo che durante le campagne elettorali uno si lascia prendere e quindi vengono fuori anche queste cose ma per me non c'è non c'è alcun problema mi è dispiaciuto perché io penso che Surbo ha avuto l'onore di avere qui un ministro un sottosegretario della giustizia un comune come il nostro che riceve il sottosegretario della giustizia Francesco Paolo Sisto penso che siano per presenza però il diritto di replica era soltanto per questo non andiamo a profondare due minuti per Ronnitrio la premessa d'obbligo è che con con Menami diciamo c'è un rapporto di amicizia che va su un binario parallelo rispetto a quello politico quindi questo vorrei puntualizzarlo e quindi le cose che si dicono in campagna elettorale non non inficiano non dovrebbero mai inficiare il rapporto personale certo la venuta a Surbo di un ministro è un fatto sicuramente significativo la cosa in cui io non credo però è che l'appartenenza di un ministro o di un presidente di non so quale ente diciamo la partenza politica coerente con quella di un sindaco di un assessore possa fare la differenza io questo lo trovo assolutamente non fondato come principio quindi se il Giorgio Meloni di Fratelli d'Italia è il sindaco di non dico di Surbo ma di qualunque altro comune del PD o di rifondazione comunista non altera in alcun modo le potenzialità che quel comune potrà sfruttare nel momento in cui si presenta ad esempio un progetto per partecipare ad un bando ed è ben scritto ed è ben strutturato ed è ben fondato quindi questo è importante perché se no passa il messaggio sbagliato che dato che al governo c'è il centrodestra anche a Surbo deve esserci il centrodestra o comunque sia lo dico diversamente forse mi sono espresso male che il fatto che a Surbo possa esserci una compagine di centrodestra possa determinare delle opportunità maggiori non è vero cioè la presenza del ministro era legata a rapporti di appartenenza politica della candidata Tantini ed è naturalmente il mio non era un voler ridimensionare o disprezzare la presenza di un ministro assolutamente me ne guarderei bene io ho fatto soltanto una battuta ma era ovviamente in un contesto di un discorso quando ho detto il ministro non ricordava nemmeno il nome del paese in cui si trovava ma era una battuta che finisce lì non era assolutamente finalizzata ad offendere nessuno però il principio importante chiudo non c'entra nulla la coerenza politica di chi governa il paese a livello centrale con quello di chi governa il paese a livello periferico se le amministrazioni lavorano bene possono anche non avere colore politico ha terminato le faccio rispondere ti faccio rispondere subito però voglio che risponda alla domanda quindi quando ha fatto quel passaggio nel comizio elettorale parlando di incontri fuori dal palazzo perché ritengo che sia un principio assolutamente inviolabile io non facevo riferimento a qualcuno dico soltanto che l'amministratore deve essere al di sopra di ogni sospetto quindi se deve incontrare un imprenditore un progettista un tecnico è auspicabile che lo faccia a porte aperte all'interno del comune è come se io ricevessi una studentessa e chiudessi la porta nel mio ufficio non sta bene a porte aperte 50 secondi di diritto di replica parte risponde adantini e palladini gentile io voglio solo chiarire una cosa perché qui ci stanno seguendo ma io non posso ricevere persone che credono in me che rappresentano il mio partito la mia area politica e vengono a trovarci assurbo io sono felicissima onorata di aver avuto qui lo ripeto il ministro della pubblica amministrazione il vice ministro alla giustizia così come tu hai ricevuto i tuoi amici del partito democratico nessuno mette in discussione nessuno mette in discussione il tuo diritto di ricevere chi ritieni di ricevere tra l'altro anche loro fanno campagna elettorale con te sono rappresentanti istituzionali di una regione gestiscono alcuni assessorati chiave quindi nulla a questo per quanto riguarda il principio è uguale quindi non ripeto nessuno ha mai detto che tu non debba ricevere sono dinamiche fisiologiche delle campagne elettorali però non passi il principio per cui bene dato che abbiamo il ministro amico permettimi passami questa parola allora se io divento sindaco perché questo è il messaggio subliminale che mandiamo allora avremo maggiore opportunità non è vero ne avrà Paladini Gentile Trio Odantini a prescindere dal ministro Zangrillo ti mancano dei passaggi quando è arrivato il ministro Zangrillo io ho invitato candidati di tutte le liste che ho incontrato così come ho invitato amministratori della pubblica amministrazione di tanti comuni e denti pubblici li approfondiamo dopo Paladini allora poiché noi non abbiamo un minuto Paladini facciamo recuperare il dibattito che hanno aperto tra loro due allora poiché noi non abbiamo amministrato e quindi tante cose non le sappiamo e non le possiamo sapere volevo sapere se confermi che non era diciamo riferito a nessuna persona di quegli incontri questo volevo chiederti non c'era nessuno ho detto è un principio generale che io affermavo nessuno deve pensare di amministrare la cosa pubblica ricevendo in una prospettiva futura imprenditori tecnici o progettisti né in bar né in altre uffici un principio di trasparenza che lei voleva puntualizzare non che ci sia niente di male a prendere un caffè ma se questa diciamo queste riunioni poi dovessero risultare ripetitive e sistematiche qualcosa che non quadra poi secondo me è chiaro Trio gentile comunque per me i principi di trasparenza devono essere adottati diciamo nella sostanza non soltanto così decantati a modi a modi slogan per quanto riguarda invece la posizione in merito alle visite di ministri l'arrivo di politici di rango ritengo che questo non sia di particolare interesse per la comunità di Surbo che si aspetta di ascoltare da noi programmi progetti idee per la città che verrà per cui non intendo proseguire nella replica Palatini aggiunga e andiamo oltre comunque questa discussione conferma che sicuramente ci stanno dei rancori tra i vari candidati non so che cosa sia successo tra di voi ma diciamo queste discussioni fanno presupporre questo penso che noi siamo la novità diciamo di questa campagna elettorale mi pare mi pare questa la risultanza qui c'è proprio direbbe Papa Cagliazzo che c'entra l'Ukulu con le quattro tempore però scusate mi erano inciso così e vabbè io vi autorizzo a fare un applauso perché è simpatico ci sta ci sta la battuta ci sta in politica nel confronto dottore peschi lei la prossima domanda partiamo da lei la leggo io la leggo io dottore allora vediamo quali sono gli indirizzi della sua lista in merito alla tutela degli animali allora gli indirizzi forse non è fattato allora intanto creare dei luoghi dove questi animali possono possono comunque muoversi tranquillamente dove i proprietari con tranquillità possono portare a passeggio questi cani perché purtroppo tenere un animale chiuso all'interno di un appartamento è veramente una sofferenza per tutti gli animali e quindi creare anche dei posti dove si possono trovare delle buste diciamo autodegradabili da poter raccogliere i loro escrementi e di conseguenza facendo muovere questi animali all'interno di aree indicate per gli animali sicuramente sono anche una sicurezza per tutti noi cittadini perfetto grazie mille paladini gentile sì nel nostro programma c'è un'apposita voce dedicata al benessere animale nella quale abbiamo previsto la creazione di due dog park uno dei quali nel quartiere di giorgilorio vogliamo istituire delle giornate per la microcippatura gratuita degli animali domestici attivare una convenzione con una clinica veterinaria per poter intervenire quando qualche randaggio viene trovato per esempio ferito e poi dall'ascolto insomma delle persone che sono particolarmente amanti di questi piccoli amici abbiamo anche rilevato la necessità di adottare dei dispenser grazie ai quali a mo' appunto di arredo urbano sia possibile anche sfamare i mici e i gatti randaggi e i cani randaggi scusatevi visto che vogliamo anche poi istituire la colonia felina e quindi cercheremo di dare tutto il nostro sostegno a una nascente associazione animalista grazie alla quale sarà più facile attivarci per il benessere animale grazie mille trio io mi rifaccio a quello che è contenuto nel nostro programma perché c'è un punto ad hoc per gli animali d'affezione e per i loro padroni devo dire che questo per onestà intellettuale lo devo riconoscere è un aspetto che abbiamo curato meno di quanto avremmo forse dovuto è vero quando siamo presi dalle emergenze e io ricordo che abbiamo amministrato per tre quarti sotto il periodo covid l'ordinario passa in secondo piano e l'ordinario è curare e seguire gli aspetti che riguardano anche gli animali d'affezione per questo motivo abbiamo pari pari ripreso la legge 2 del 2020 della regione Puglia abbiamo fatto davvero un copia e colla qui lo dico perché non sembri una cosa copiata ma volutamente una volta tanto perché non volevamo sbagliare in nulla la legge regionale è chiara in questo dice molte cose importanti e come obiettivi programmatici per un'amministrazione e noi li abbiamo recepiti e acquisiti integralmente ne cito alcuni perché non voglio sforare col tempo realizzazione di un canile sanitario e di canile rifugio censimento dei cani liberi sul territorio ai fini anche della sterilizzazione temporanea custodia e reemissione sul territorio adozione o affido in collaborazione con le associazioni protezionistiche o animaliste trattamenti sanitari per gli animali d'affezione vaganti recuperati creazione di una o più colonie feline e nomina ecco questo è importante di un referente comunale in materia di prevenzione e lotta al randaggismo questo è un aspetto fondamentale perché una delle voci di spesa che spesso ci hanno fatto sudare perché non riuscivamo spesso a trovare le risorse necessarie è proprio quelle dell'affido dei cani del ricovero nei canini e questo ha rappresentato spesso un motivo di impotenza che abbiamo avvertito altra cosa nei 4 secondi realizzazione di un dog park che tanti ci chiedono e che realizzeremo grazie mille Dantini stessa domanda a lei la sua visione per gli amici a quattro zampe allora premetto che io ho un cane e un gatto quindi sono un amante degli animali con me ci sono in amministrazione in squadra persone che sono amanti degli animali noi abbiamo un'emergenza che è quella della proliferazione dei gatti soprattutto nel quartiere di Giorgi Lorio quindi abbiamo inserito nel nostro programma grande attenzione punti con grande attenzione alla gestione di questo fenomeno con protocolli di intesa e convenzioni con veterinari per la sterilizzazione e la cura l'attivazione poi di un dog park sicuramente ma io ho un sogno ricominciare da dove ho iniziato quando ho fatto l'assessore all'ambiente in questo comune noi volevamo aprire un canile comunale con l'allora sindaco Daniele Capone perché noi paghiamo il ricovero degli animali che troviamo presso un altro canile paghiamo le rette all'epoca individuammo una zona cosiddetta degli arrazi ricordo Daniele che ci parlava di questa zona poi l'amministrazione andò a finire e non se ne è fatto più nulla quindi ripartire da lì per pensare anche ad un canile comunale perché poi alla fine tra pari e dispari i costi che sopportiamo per i ricoveri sicuramente sono dei costi importanti a questo punto iniziamo a vedere cosa possiamo fare a casa nostra Benissimo Dantini Barbara commenti dai social e una domanda da casa Ci sono tantissimi commenti si susseguono uno dopo l'altro ma c'è un argomento ricorrente che riguarda e volevo sottoporlo alla vostra attenzione la discarica Masseria Ghett siccome in tanti stanno puntando proprio l'attenzione su questa tematica forse è quello più richiesto in questo momento Perfetto Enes Io vorrei aggiungere se possibile riguardo questa domanda che abbiamo appena completato che oltre a dotare di microcippi tutti gli animali i nostri quali di intensificare la lotta all'anagismo sia per regione di sicurezza ma per evitare la diffusione di molte malattie che purtroppo questi randaggi possono portare Grazie mille Dottore Paladini però non integriamo le domande precedenti mi crea un incidente diplomatico che devo dire adesso Gentile deve integrare la precedente Trio deve integrare la precedente Dantini deve integrare la precedente Dottore Paladini è stato il pediatra di mia figlia ma anche le mie che ormai sono grandi però si è stato il pediatra ha cresciuto tutti i nostri figli io darei soddisfazione a chi ci segue da casa Masseria è un problema è un argomento sentito discusso corre una visione gentile tocca a lei Nella domanda però si parla erroneamente di discarica in realtà era un impianto di compostaggio un impianto di compostaggio troppo grande a nostro avviso perché il territorio possa reggere è evidente che c'è la necessità di chiudere il ciclo dei rifiuti ma altrettanto evidente che il nostro territorio ha assolutamente già dato e quindi non può sopportare il peso di impianti di compostaggio così voluminosi che comporterebbero una fila di mezzi pesanti che andrebbe a impattare negativamente su un territorio in cui ci sono tanti investimenti per valorizzare la ruralità e il turismo del nostro territorio e dunque per quanto mi riguarda io come si suol dire mi chiamo fuori rispetto a questa tematica perché ritengo che un impianto di compostaggio così grande comprometterebbe l'equilibrio di questo territorio un equilibrio già difficile da mantenere per via della presenza di altri insediamenti Trio due minuti sono pochi ma li utilizzerò spero bene allora Mastriaghetta è il sito lo diciamo a beneficio degli ascoltatori dove è stato individuato che è stato individuato come sede microfono e facciamolo terminare da chi è individuato il sito se posso completare il discorso no ma adesso rispondo l'ha individuato questo comune no no non l'ha individuato questo comune poi recupero i 20 secondi che mi ha tolto Tantini allora dicevo ai telespettatori prima di essere interrotto dalla candidata Tantini sensibile al tema è stato individuato come sede che accoglie o che dovrebbe accogliere se non manteniamo il diciamo il punto un impianto di compostaggio è importante sottolineare che noi non siamo contrari all'impianto di compostaggio perché il ciclo dei rifiuti va chiuso siamo contrari a quella scelta scelta che abbiamo contestato sia avendo accanto esponenti di centro-sinistra sia avendo accanto esponenti di centro-destra questo è dimostrazione del fatto che non servono le etichette destra-sinistra-centro quando si tratta di trattare gli argomenti che interessano il cuore della gente allora io vorrei che fosse chiaro questo aspetto quel sito va contrastato con tutte le nostre forze e io chiamo tutti i miei colleghi candidati a qualora dovessero diventare sindaci loro a mantenere il punto perché non possiamo far passare in silenzio questa scelta scellerata di Massa di Aghietta e lo dico senza avere paura senza avere timore di essere contraddetto da chi è della mia parte politica come tu dici anzi se tu sei dalla parte politica giusta e non ci sono come dire frizioni da questo punto di vista nella tua lista ti inviterei anche in questo caso ad affermare in modo chiaro netto e deciso che sei contraria a Massa di Aghietta dillo se sei realmente convinta che quella scelta sia sbagliata o se hai un'idea contraria naturalmente allora io sono abituata a guardare a casa mia e non a casa degli altri Ronny è uno che si proietta molto nelle liste degli altri e pensa di conoscere il pensiero degli altri chiariamo una cosa lui ha detto che è favorevole all'impianto di compostaggio io sono contraria agli impianti di compostaggio io e tutti coloro che sono candidati nella mia lista il nostro territorio è un territorio vessato perché è un territorio che ha già dato tanto in termini di inquinamento ambientale noi abbiamo alcune aziende industrie che producono fumi abbiamo già la ditta di smaltimento dei prodotti farmaceutici abbiamo i tralicci di alta tensione quindi siamo anche soggetti ad un inquinamento elettromagnetico abbiamo aziende che vengono ad insediarsi nel nostro territorio perché Surbo si incunia nel territorio di Lecce quindi tante volte le decisioni sono prese dall'amministrazione comunale di Lecce e dall'amministrazione regionale come nel caso dell'Ager che ha individuato il sito di Masseria Chetta che ricade nel comune di Lecce dove la presa di posizione di tutti i cittadini di Surbo io sfido chiunque a volere un impianto di compostaggio che andrebbe a smaltire poi circa tonnellate di compostaggio per 200.000 abitanti sfido chiunque ad accettare un impianto di queste dimensioni mi pare che precedentemente l'amministrazione precedente si sia espressa già all'unanimità sia la maggioranza che le opposizioni e io ricordo che la maggioranza e le opposizioni rappresentano i cittadini di Surbo Surbo si è già pronunciata e se la nostra parola può servire successivamente a sensibilizzare il comune di Lecce e la regione Puglia tutto questo ci sarà perché io personalmente differentemente da Trivo perché ho detto che lui è favorevole all'impianto di compostaggio io noi siamo contrari ad ogni forma di impianto di compostaggio allora dovete cambiare forse nome alla lista perché la sostenibilità rientra nella chiusura del ciclo di rifiuti la sostenibilità ci sono anche misure alternative poi me le spieghi perché io non le conosco poi pensa la lista tua al programma tuo non è che penso però non possiamo raccontare frottore alla gente cioè o diciamo che siamo per agenda 2030 e quindi parliamo di sostenibilità e quindi di chiusura del ciclo di rifiuti e quindi anche l'impianto di compostaggio oppure se diciamo che siamo contrari all'impianto di compostaggio spiega ai cittadini dove dobbiamo portare la spazzatura di surbo Aspetti però dobbiamo direttore Paradini Allora su questo argomento diciamo che tutto il mio gruppo ha delle idee molto chiare quelle di opporci con tutti i mezzi e con tutte le forze ad impedire in questo territorio un impianto di compostaggio noi sappiamo benissimo che nonostante le regolari distanze si trova comunque molto vicino dall'abitato considerando pure che i venti arrivano da nord prevalentemente sicuramente nel nostro territorio arriverebbero dei cattivi odori che sicuramente possono compromettere la nostra vita la nostra comunità considerando pure che quella è una zona a locazione molto turistica dove ci stanno delle masserie importanti degli importanti agriturismi e quindi diciamo potrebbe compromettere il tutto io consiglierei a tutti la prima cosa che proporrei è quello di fare un consiglio monotematico proprio su questo argomento ecco questo io non lo sapevo quindi ne facciamo un'amministrazione deve fare tutti i consigli invitando tutti i sindaci del circondario i politici nazionali e i politici del territorio sia quelli nazionali che quelli del territorio va bene convocherei anche il sindaco di Lecce e chiederei a tutti loro chi è d'accordo ad effettuare in quella zona un impianto di compostaggio così vicino ai nuclei abitativi posso solo aggiungere un'altra cosa dobbiamo dare pubblicità ritorniamo subito faccio rispondere e colgo l'occasione dalla vostra emittente io chiedo aspetta meno io devo seguire i tempi pubblicitari ce la facciamo il giro è finito allora chiudete 30 secondi che abbiamo terminato io chiedo all'amministrazione comunale al comune di Lecce di porre più attenzione per il nostro comune perché il nostro comune per una serie di caratteristiche entra nella città capoluogo e quindi noi non vogliamo essere cittadini passivi delle scelte del comune capoluogo ma vogliamo poter decidere noi per i nostri cittadini grazie Dantini trio un flash ce lo dirà dopo la pubblicità si consulterà gentile un flash io credo che l'unica lista realmente autonoma su questo tema sia la nostra Palladini una battuta finale proprio flash prima della pubblicità niente io ho già detto come ha detto la mattina che tutta la mia lista tutti i componenti della mia lista sono fermi va bene e con tutte le forze bloccheranno questo impianto perfetto non l'ho vista ci fermiamo un minuto per la pubblicità torniamo subito qui in diretta da Surbo con i quattro candidati sindaci bentornati nuovamente in diretta qui da Surbo un confronto che è entrato nel vivo ci vorrebbero sei ore di confronto perché si potessero poi affrontare tutti i temi ma dobbiamo cercare anche di incominciare a tirare proprio le file del discorso perché siamo alle ultime battute e io ritorno proprio su alcuni passaggi dei comizi che sono tenuti in piazza tema ricorrente tra tutti e quattro i candidati sono stati i conflitti di interesse e con un minuto a testa a rotazione per ogni candidato perché siamo in chiusura ormai partendo da trio ha risposto lei come ultimo come prima ok trio come gestirete il conflitto di interesse come cerchete di gestirli anche nell'assegnazione degli incarichi in tutte le amministrazioni c'è un problema si parla si addita si discute di conflitto di interesse ecco voi avete pensato a una regola avete pensato a un'attenzione particolare ma pochè un minuto mi devo limitare a usare una parola che è trasparenza quindi diciamo che l'assignazione degli incarichi non dovrà avvenire sulla base anche qui dell'appartenenza politica delle conoscenze personali dell'essere parente di cugino di o fratello di la trasparenza significa valutazione di curricula dei professionisti che si candidano a ricoprire determinati incarichi e quindi assegnarli a quelli che presentano profili di elevata professionalità che sono la maggiore massima garanzia della qualità del lavoro professionale che andiamo ad affidare stessa cosa naturalmente deve valere per le imprese cioè le procedure previste dal codice degli appalti in alcuni casi lasciano degli spazi di manovra lasciano degli spazi di discrezionalità noi non vogliamo sfruttarli anche a costo di rallentare non sembri paradossale quello che sto dicendo anche se deve significare rallentare di un mese l'inizio dei lavori a me interessa che l'impresa che prende i lavori li prenda perché è la più titolata è quella che ha fatto l'offerta economicamente più vantaggiosa ha i requisiti migliori per partecipare a quella gara grazie mille questo è il principio Dantini come pensate di gestire il conflitto di interesse io penso che non ci possano essere conflitti di interesse perché io sono una sostenitrice della meritocrazia e quindi chi merita attraverso gare pubbliche o affidamenti tenendo conto poi dei requisiti e quindi di chi più può svolgere meglio può svolgere determinati servizi quindi alcun conflitto di interesse la trasparenza e l'ABC della buona azione amministrativa efficacia ed efficienza guideranno il nostro agire politico grazie mille Dantini Palladini stessa domanda niente io sono per la massima trasparenza in questo e diciamo sulla votazione degli incarichi e comunque devono essere i tecnici come dire a diciamo a fare queste norme il politico deve soltanto dare degli indirizzi ma è comunque il tecnico la scelta di questi il tecnico comunale per questa scelta con la massima trasparenza con la rotazione degli incarichi e con esaminando le varie professionalità di questi tecnici grazie mille Palladini gentile stessa domanda come gestirete eventuali conflitti di interesse temo di aver frainteso la domanda ritengo che sia una domanda più che altro sulle deleghe assessorili e dei consiglieri comunali perché ovviamente noi amministratori non possiamo entrare nei procedimenti che vengono seguiti e perseguiti dai responsabili di settore quindi io mi atterrò a quello che la normativa prevede cioè l'indirizzo politico rispetto alle scelte che l'amministrazione compirà la domanda prende spunto nasce da quello che poi voi dite nei comizi dove si dice siamo attenti ai conflitti di interesse io porto qui in televisione una cosa che voi avete alzato un monito se ci dovessero essere eventuali conflitti di interesse o come vi tutelerete da conflitti di interesse poi la rete dei cavilli normativi politici e amministrativi voi me li insegnate io però ho imparato a leggerli facendo questo lavoro dal 98 io vi ringrazio ringrazio i candidati sindaci alla poltrona più importante del palazzo di città di Surbo ringrazio i nostri spettatori ringrazio il mio staff Matteo Russo Michele Sico e la regia di Bari Francavilla la mia collega ai social Barbara Magnani e il collega Paolo Franza che ha preparato le schede un grande in bocca al lupo alla candidata Filomena Dantini in bocca al lupo a Ronny Trio grazie e grazie per l'opportunità in bocca al lupo a Martina Gentile in bocca al lupo a Lino Paladini in bocca al lupo e grazie per il dito un applauso e grazie a voi che siete venuti a darci a darci supporto e sostegno e quindi perdonateci se noi verremo continueremo a venire con le nostre telecamere in piazza a documentare quello che accade a Surbo e il nostro lavoro ma lo facciamo sempre nel vostro interesse e con il cuore grazie mille ai nostri telespettatori grazie faremo una passeggiata con il sul corso con il prossimo sindaco perché tra queste quattro volti ci sarà il prossimo sindaco di Surbo e noi vi diamo appuntamento al prossimo confronto elettorale che Antenna Sud seguirà a livello interregionale e per adesso vi auguro una buona serata